Anticipazioni Beautiful, Brooke colpisce duro Ope e lei. Benvenuti nel nostro canale. In questo nuovo video vi daremo una anticipazione di quanto accadrà in futuro nella SOP. Vi preghiamo però di supportarci mettendo mi piace al video ed iscrivendovi al canale. La situazione tra Brooke, Ope e Thomas si è fatta estremamente complessa. Brooke non ha mai sopportato Thomas a causa del suo passato, quando cercò di separarla da Rige. Ora, il recente coinvolgimento di Thomas nella vita di Ope ha dato origine a nuovi conflitti. Infatti, Thomas ha escogitato una complessa messa in scena per incolpare Brooke di un fatto che ha portato Rige a fraintendere la situazione e a chiedere il divorzio. Brooke ha sempre cercato di proteggere Ope da Thomas, giudicandolo poco affidabile. La sua approvazione per il matrimonio di Ope e Liam è evidente, poiché crede fermamente che solo Liam possa rendere veramente felice sua figlia. Tuttavia, Ope è determinata a seguire il suo cuore e prendere le proprie decisioni, rifiutandosi di seguire i consigli di sua madre. Ha già avuto esperienze sentimentali e matrimoniali che l'hanno resa sicura di ciò che vuole veramente. Questa sua scelta provoca una rottura nella loro relazione madre-figlia, con Brooke che caccia Ope da casa. Senza alcuna intenzione di scusarsi, Ope decide di trasferirsi da Thomas per iniziare una nuova vita. Il padre di Ope, Deacon, rispetta la sua decisione, riconoscendo la sua maturità e capacità di decidere del suo futuro. Infatti, Ope crede che Brooke abbia sbagliato cacciandola di casa e Deacon comprende la sua scelta di stare con Thomas, nonostante le mancanze commesse in passato dal ragazzo. Deacon ritiene che Ope abbia scelto Thomas perché lo considera una persona su cui poter fare affidamento, mentre Liam, a suo parere, deve affrontare le conseguenze delle sue azioni avventate e dei tradimenti nei confronti di Ope.